Stasera alle 21 sarò in diretta. Sei pronto ad assistere a una delle dirette più noiose della tua vita? Bene, se stasera ti collegherai, la vedrai. Perché? In tanti mi chiedono, facci vedere come monti? Oppure in tanti dicono, eh vabbè, ma cosa vuoi che sia montare un video? Bene, stasera ci sarà la telecamera, sullo schermo, con me qui, che era in computer, quindi leggerò anche i commenti, e monterò un programma. E tu assisterai in tempo reale al montaggio di un programma. Saranno due palle così. Voglio vedere se resisti a guardare, perché io sto sudando per montare. E quindi ci vediamo questa sera alle ore 21, sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, naturalmente redroni.tv, a cui la maggior parte di questi programmi, tra cui quello di questa sera, andranno e saranno caricati. A stasera. Sei pronto? Ad annoiarti? Ad annoiarti?